Sulla A12 è chiuso lo sguardo Il vincolo di Rosignano è in entrata e uscita in direzione sud per lavori fino al 21 marzo Fino a metà febbraio la statale 1 Aurelia sarà chiusa a Pisa in corrispondenza del Bivio per Coltano per lavori di ristrutturazione ad un cavalcavia La viabilità cittadina a Firenze invia Giuliani per lavori di vieto di transito tra i civici 558 e 562 Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze Buon viaggio! Buon viaggio!